Buondibettist.it! Nelle scorse settimane, negli scorsi mesi, vi ho raccontato con due video recensioni Il Filo Invisibile, un fumetto artistico sulla storia dell'arte pubblicato da Kleiner Flug. Questi due volumi mi hanno folgorato e così sono andato a ricquerare dal passato quello che potrebbe essere considerato una sorta di primo capitolo anche se in realtà così è fino a un certo punto. Vincent N. Van Gogh mi ha fatto un po' l'effetto di quando ho letto per la prima volta Lobbit dopo aver letto Il Signore degli Anelli. Mi sono avvicinato a Tolkien con Il Signore degli Anelli e poi ho scoperto una cosa fatta prima, non all'altezza, però era propedeutica a far sì che l'autore arrivasse a quel grande capolavoro fantasy che è Il Signore degli Anelli. Ecco, è successo qualcosa di simile anche nella lettura di Vincent N. Van Gogh che è stato realizzato prima, mi è piaciuto un po' meno, lo premetto, ma sicuramente è un tassello fondamentale per la realizzazione di quei due volumi che vi ho straconsigliato che sono Il Filo Invisibile. Vincent N. Van Gogh non racconta una biografia normale di Vincent N. Van Gogh perché non si intitola Vincent Van Gogh, si intitola Vincent N. Van Gogh, c'è questa, anzi leggiamola in italiano, Vincent e Van Gogh, c'è questa congiunzione che cambia un po' tutte le carte in tavola perché parla di due personaggi, Vincent e Van Gogh, questa parafrasi elementale del titolo. Vabbè, non è che vi ritengo dei deficienti, è che dovrò iniziare a parlare da qualche parte. Van Gogh, potete tutti immaginare chi sia, è il pittore che noi conosciamo, o almeno in parte conosciamo, questo libro ci racconta qualcosa di diverso e Vincent è questo gatto, questo gatto che incontra sul suo cammino il pittore, in realtà aspirante pittore, Van Gogh che ha un altro nome di battesimo. Van Gogh non riesce a dipingere come vorrebbe, i suoi risultati sono abbastanza scarsi, ma il gatto un giorno sale sul cavalletto, questo dipinto dei girasoli che Van Gogh stava disegnando, inizia a graffiarlo e crea queste pennellate che sono un po' il tratto caratteristico del pittore. Quindi in realtà Vincent e Van Gogh in realtà è la crasi di questi due personaggi che assieme, una coppia artistica, creano i quadri che tutti noi conosciamo. In realtà non sono stati disegnati da un uomo, ma sono stati disegnati da un gatto. Ebbene sì, è andata proprio così, è la storia vera. Van Gogh deve cercare di arginare un po' l'estro di questo gatto che è un genio dal punto di vista artistico, però è un genio in sregolatezza. È difficile da controllare perché ruba, finisce in prigione, ci prova con tutte, è uno sciupa femmine, che siano feline o che siano umane. Riesce a ottenere anche un discreto interesse dal genere femminile, però Van Gogh è l'aspirante artista che deve prestare il suo nome a questo gatto talentuoso. La storia funziona, è interessante, è un po' più scricchiolante rispetto a quella del Filo Invisibile. Sospetto che sia il motivo da imputare alla realizzazione da parte di Gradimir Smuggia, che è solo uno dei due autori del Filo Invisibile. Nel Filo Invisibile sale a bordo Ivana Smuggia che, ipotizzo, non sapendolo, ipotizzo che possa essere magari quel tocco che ha fatto evolvere la sceneggiatura. Un po' come succede con i Nolan al cinema. Potete amare o odiare Nolan come il buon Francesco l'ho della sezione cinema, però a me sembra innegabile che quando c'è il fratello di Christopher in sceneggiatura i film risultano più apprezzabili. Lo stesso succede con Ivana Smuggia, il Filo Invisibile è più costruito dal punto di vista della sceneggiatura, pur essendo più frammentato, più episodico. Qui Gradimir Smuggia da solo, la storia riesce a renderla interessante, ma ci sono dei balzi un po' innaturali, un po' poco fluidi. Insomma, immaginatevi questa biografia sul generis di Van Gogh perché la vera storia ci dice che c'è questo gatto, gatto parlante ovviamente, che gli disegnava tutto. Questo potrebbe essere la recensione del volume. In realtà vi ho recensito solo la prima metà del volume, perché questo volume contiene due storie. La prima è una biografia fantasiosa di Van Gogh. Nella seconda parte vediamo Vincent e Van Gogh, quindi pittore con la barba rossa e pittore gatto parlante, vengono ressuscitati, sì perché erano morti, ci spostiamo di almeno un secolo in avanti, siamo nel presente, forse anche nel futuro, vengono ressuscitati dalla barra, quindi sono una sorta di zombie, di fantasmi, quindi c'è un incipit assurdo. Mi ha ricordato vedere Van Gogh in versione fantasma-zombie, mi ha ricordato un po' quei romanzi con un incipit molto accattivante come Abraham Lincoln, Vampire Hunter o Orgoglio e Pregiudizio e Zombie, cioè abbinare le storie di genere con l'arte o comunque delle figure storiche importanti. Quindi ci sono questi zombie, fantasmi di Van Gogh e il gatto che si aggirano nel presente e forse anche nel futuro, come vi dicevo, scopriranno l'eredità che hanno lasciato, i quadri di Van Gogh. Tra l'altro in un momento in cui il cinema c'è Hitchcock, quindi in realtà non è presente perché c'è Hitchcock, quindi siamo qualche anno nel passato, però comunque per Van Gogh è il futuro. Hitchcock sta girando questo film su Van Gogh e il film racconta la storia vera in cui Van Gogh aveva un gatto che ha dipinto i suoi quadri, quindi in realtà la prima metà del volume viene trasformata in un film, vuole essere trasformata in un film nella seconda parte del volume, questo elemento metanarrativo. Inoltre scopriamo qualcos'altro perché ci sarà un altro personaggio che è un motore narrativo non da poco, da un obiettivo a Vincent e a Van Gogh, devono fare qualcosa, devono aiutare questo nuovo personaggio e sarà un collegamento poi alla storia futura del filo invisibile, che per me che l'ho recuperato mi ha fatto capire un po' le origini di quello che verrà dopo, un po' come un lettore tardivo dell'Hobbit leggendo questa storiellina capisce da dove vengono Bilbo, Lamello, Gollum, ma allo stesso modo c'è un personaggio molto importante nel filo invisibile, di cui qui scopriamo le origini, possiamo dirlo. Non so perché mi ha ricordato questo paragone Hobbit, Signore di Anelli, probabilmente è dovuto unicamente alla mia fruizione al contrario, come i film di Star Wars in che ordine vanno letti. Questo è stato scritto e disegnato per primo, era già stato pubblicato anche in Italia quasi vent'anni fa, ma Kleiner Flug lo ha riportato sugli scaffali con una coedizione che gli rende onore. In tutto ciò non vi ho parlato di un elemento non del tutto marginale come i disegni, per cui mi ero già speso in Lodi Sperticata e nel filo invisibile, le tavole hanno uno stile pittorico vicino a quello di Van Gogh. Non raggiunge, se non, eccolo qua, le ho trovate per caso, se non in alcune tavole, in queste tavole c'è una mimesi proprio dello stile. Nelle altre non c'è la stessa aderenza costante allo stile del pittore di cui si parla. Il filo invisibile ne faceva proprio una cifra stilistica. Qui in 120 tavole di storia su Van Gogh non sono tutte in stile Van Gogh, sono in stile smuggia che mi piace molto. Se avete seguito il mio consiglio di recuperare il filo invisibile, ora potete andare a vedere dove tutto è cominciato. Se siete dei fan di Van Gogh potete scoprire questo divertente What If, rimanere incantati dalle tavole, perché io continuo a dire che uno stile così pittorico nei fumetti non si vede spesso ed è interessante. Tra l'altro smuggia non è solo un pittore o illustratore proprio. Smuggia ama il fumetto e ce lo dice anche all'interno della storia. Cioè è un passaggio in cui viene affermata la superiorità del fumetto al cinema in modo esplicito. Quindi io sono curioso di vedere cosa farà in futuro, visto che c'è stata una crescita netta da Vincent e Van Gogh al filo invisibile, di sicuro un autore da tenere d'occhio, da recuperare, grazie a Kleiner Flug che ce l'ha portato, ce l'ha fatto scoprire. Quindi buttate un occhio a Vincent e Van Gogh pubblicato da Kleiner Flug.